Se telefonando io potessi dirti vieni io lo farei Se guardandoti negli occhi potessi dirti vieni io lo farei Buongiorno amici dello zoccolo duro Buongiorno 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 Senza fiato oggi senza fiato a furia di telefonare ad Antonio Conte Sono senza fiato senza fiato Allora intanto vi iscrivete al canale poi dopo parliamo anche dell'Ajax Ma parliamo di Conte perché qua ragazzi ha firmato Ha firmato adesso vi dirò per chi ha firmato ma lui ha firmato 99% anzi 100% ha firmato Pronto Sentiamo per chi ha firmato Pronto Beppe Marotta Ciao per gli occhietti come stai Tutto a post Come dici? Conte ha firmato Eh lo so lo so ha firmato per l'Inter Conte Si 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 Me l'ha detto Fabio Beh ho sentito anche Gianni Nelazzurro Fabio Bergomi Che ha firmato si 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 ha firmato ma E come ma? Cioè ha firmato o non ha firmato? No ha firmato ma Quindi ha firmato Si si è tutto ufficiale 99% ma 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 cosa vuol dire? Scusami ha firmato O non ha firmato? No no lui ha firmato è sicuro Sicuro un mese che lo dicono Un mese ha firmato Sicuro ma Va Vabbè Se dici ma Eh va bene Allora io sono tranquillo Che ha firmato Va bene Va bene Ciao grazie Ciao ciao Ragazzi Conte all'Inter Aferno chiamiamo Antonio Sentiamo Pronto Antonio Ciao Senti ma qua mi dicono che hai firmato per l'Inter Sì si è firmato Ok ho firmato ragazzi È confermato Conte Confermato Quindi vai all'Inter sicuro Va bene Va bene Ciao 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 Niente ragazzi va all'Inter Peccato Rosico Rosico ovviamente Vabbè va all'Inter Pronto? Ciao Presidente Pallotta Dimmi Come dici? Conte ha firmato per la Roma? Come ha firmato per? Ma se mi ha appena detto che ha firmato per l'Inter No no ha firmato Però è andato Totti a parlare con lui Ha firmato sicuro Per la Roma No 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 Non ha firmato per l'Inter Mi ha detto che ha firmato per l'Inter Ma No no ha firmato per la Roma Perché vengono i Catariotti Ma mi ha detto adesso che ha firmato Aspetta che chiamo Conte va Ciao ciao Antonio Eh ma qua mi ha chiamato Pallotta Ma ha detto che hai firmato per la Roma Ah hai firmato per la Roma Eh ma scusa Prima mi hai detto che hai firmato per l'Inter Ah hai firmato sia per l'Inter che per la Roma Ah adesso ho capito Alleni tutte e due Alleni sia l'Inter che la Roma Fai giorni pari Li fai con l'Inter E quelli dispari con la Roma Ho capito Vabbè Qualcuno ha ragione Anche Valerio Nico Beso Dicono tutti che ha firmato per la Roma Vabbè Vabbè Qualcuno avrà ragione Qualcuno dei due avrà ragione Va bene Quindi Cosa mi dici Mi fai un po' di mesi qua a Milano Un po' di mesi a Roma Ah no Vivi direttamente su Frecciarossa Gli alleni là Tu vai su Frecciarossa E i giocatori corrono Vabbè Almeno li fai correre Sarà anche utile Va bene Ciao Antonio Grazie Ciao ciao Quindi ragazzi miei Sono tutti sicuri Sono tutti sicuri Ma da un mese E' un mese che sono tutti sicuri Conte ha firmato Ufficiale Ma Perché ma se lo lasciano sempre No Però ha firmato Quindi sono tutti sicuri Chi è? Pelle gatti Carlo Ciao Come stai? Come dici? Maldini ha contattato Conte E ma Ha già firmato Per l'Inter La Roma Non è che ne può allenare tre Cioè già due Sono tante Già vive Tu dici Tanto è già Milano Su Frecciarossa Butta dentro Anche quelli del Milan Ah no 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 Ok ho capito Ah no lui dice Che ha solo Contattato Conte Ma non verrà Però Questo fa capire Che anche il Milan C'è Ah ok Però Ha già firmato Ha già firmato Va bene Va bene Quindi Milan Sto tranquillo Che non arriva Inter e Roma Già firmato Va bene Grazie Cerchiamo di prenderne Però uno Un Gasperini Almeno Non so Uno che sappia allenare E mi fai sapere Va bene Ciao Ciao Niente ragazzi Al Milan Niente Ha già firmato Per Inter e Roma Pronto Ancora Oh mi fate fare il video Chi è? Presidente del Pari Al Calipoli Calipofix Dimmi Calipofix Cosa dici? Prendete Conte Ma scusa Ma sei in ritardo Quella ha già firmato Ha firmato Per l'Inter La Roma Su Frecciarossa Non c'è A Parigi Non ce la fa Cioè Col Milan Potevo capire Perché era Milano Ma a Parigi Non ce la fa Non ce la fa Eh ma Tucci Sta facendo cagare Ha perso pure con Reni Nella Coppa Francese Nella Coupe de France Che lingua del cavolo Nella Coupe de France Ha perso con Reni Di Niang Che scarso Niang Cosa dici? Farete il tentativo Per Conte Eh ma È tardi Calipo È tardi Ha già firmato Quindi Mi spiace Vabbè Fammi sapere Magari se vuoi ti mando Gattuso Tranquillo Che con Bappé Neymar Cavani Lui li mette dietro Belli coperti E non ti preoccupare Che non gli arriverà Neanche un pallone Così Sono a posto Anche loro Però In Champions Possono dire la loro Sempre ha vinto Più di Allegri Va bene Va bene Ciao Grazie Ciao ciao Amici Dello zoccolo Duro Vi ho fatto Questo teatrino Oggi per ridere un po' Tanto è l'una La festa dei lavoratori Adesso parleremo Anche di Tottenhamayax Giusto per farvi capire Che sembra Tutti pazzi Per Conte Ma La cosa bella Che di solito Si girano le voci E Poi non si sa Mentre adesso Sono tutti sicuri Io Vi dico la verità Essendo qua a Milano Essendo qua a Milano Tolto Quello che dicono Fabio Bergomi Recalcati Gianni Nerazzurro Eccetera Io vi dico Che qua a Milano Dalle voci Che sento io Danno per certo L'arrivo di Conte All'Inter Per certo E non lo dico per gufare Ve lo dico perché è così Siccome io Rosicherei tantissimo Tutti quelli che mi scrivono Tu Rosi Ecco Se arriva Conte Rosico Siccome rosicherei tantissimo Spero E prego Che Nico Bezo Giallorosso E Valerio Abbiano ragione E non arriva all'Inter Poi che va alla Roma Magari venisse al Milan Però Se voi ascoltate bene Quello che dice Pelle Gatti Non dice che Conte verrà al Milan Dice che l'hanno contattato Che gli hanno fatto una telefonata No che arriva al Milan Gli hanno fatto una telefonata Ma se tu gli fai una telefonata E quello ti dice Ha già firmato Chiudi baracca e burattini Quindi non è che c'è una Una guerra Dovevi prenderlo prima Conte Non adesso Adesso secondo me è tardi Secondo me Conte ha già deciso La cosa strana È che oggi escono Le voci anche del Paris Saint Germain Ma se questo povero Cristo Di Antonio Conte Ha già firmato Come tutti dicono Ha già firmato Che poi non si sa Si ha firmato per l'Inter O per la Roma Ma ha già firmato Com'è possibile Che ogni giorno Entra una squadra nuova Ha firmato O non ha firmato Perché se non ha Si ha firmato E allora non c'è niente da fare Ti dovevi muovere prima E io già Mi sarei mosso Già da gennaio Che lo dico che volevo Conte Però C'aveva la lite Col Chelsea Ma se non ha firmato Ma tu devi andarlo a prendere subito Subito lo devi andare a prendere Il Milan Deve capire una cosa importante E lo dico già E l'ho già detto Non potremo fare Un grande mercato Per il fair play E non ne abbiamo nemmeno troppo bisogno Per l'obiettivo quarto posto Ovviamente Ovvio che se vuoi vincere Tutta altra cosa Ma per arrivare quarti Questa rosa è più che sufficiente Con un allenatore Di calcio Con un allenatore di calcio Ma devi prendere Un allenatore di calcio Quindi tu Quei pochi soldi Che hai da spendere Piuttosto vendi Un Charanoglu Un Chessi O uno di quelli Che non servono A niente Ne vendi uno Di giocatore E compri un allenatore serio Quanto vuole con 10 milioni Dagliene 12 Dagliene 12 Vendi Chessi a 20 milioni Più lo stipendio Hai pagato Conte Gioco con la stessa rosa Con un Chessi in meno Con un Charanoglu in meno Con un Suso in meno Ma con Conte Abbiamo 500 mila milioni Da vendere Vendi Laxalt Vendi Musacchio Vendi Suso Vendi chi ti pare Ma prendi un allenatore serio Un Sarri Un Conte Casperini è proprio la La Cioè se proprio non trovi niente Va bene Casperini A me c'è un progetto Non voglio sentire Di Francesco Giampaolo Voglio un allenatore Serio 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 E questo è il punto Su Antonio Conte Su quello che penso io Secondo me ha già firmato Ha già deciso È andato anche da Cattelan Ha detto Quelle tre Sono le più probabili E quelle tre erano Roma Bayern e Inter Da tutte le manovre Che hanno fatto Quindi mostro Milan So Paris Saint Germain Da dove escono Secondo me ha già firmato Non penso che quello là È arrivato al primo di maggio E ancora non sa Dove allenerà l'anno prossimo O tira ancora la corda Come dicono No Conte ha già firmato All'Inter Però se tira un po' troppo La corda Prendiamo Morigno Ma scuse Ma se ha firmato Se no non ha firmato E se non ha firmato Lo può prendere chiunque Quindi cosa dici Il 99% Ho firmato Non ha firmato Secondo me ha firmato Per l'Inter Io ve lo dico Perché Secondo me è così Per tanti motivi E forse perché Anche mi brucia Però Se ha firmato Ha firmato Non voglio sentire Ma se La proprietà Forse può darsi Tira la corda Non tira la corda Ha firmato Ha firmato Per quanto riguarda ieri Ragazzi Ragazzi dell'Ajax I giovincelli del parco Come li chiamo io Hanno fatto una bella partita Anche ieri Mi è piaciuta La partita di ieri Perché a differenza Di Delle partite scorse Dove Comunque loro avevano Il ritorno in trasferta Dove si sono fatti sentire Hanno giocato L'andata in trasferta Questo non so Se è un vantaggio Perché adesso Il ritorno Lo faranno Ad Amsterdam Hanno vinto A Torino Hanno vinto A Londra Ieri Hanno vinto A Madrid Quindi ragazzi Inizia a diventare Una roba importante L'unica cosa Che mi è piaciuta Di ieri A differenza di Torino Lo ve li hanno presi A schiaffi Praticamente Andata in ritorno Per 180 minuti Hanno saputo soffrire Cioè Sono dei ragazzi Che quando c'è bisogno Di soffrire Sanno soffrire E quello fa Una grande differenza Poi vabbè Pocettino Lo sapete Cosa penso io Di Pocettino Che a me non piace Assolutamente Come allenatore E infatti Spero Che passi L'Ajax Perché a me Pocettino Non piace Anzi Spero che Pocettino Rimanga vita In premier Al Tottenham Così come Ha dichiarato lui Va bene ragazzi Per oggi è tutto Mettete un bel like Condividete Link in descrizione Per quello che riguarda Instagram Comunque Lo zoccolo duro 2017 Mi trovate facile E lo stesso Su Telegram Dove lascio i video Le cose eccetera Quindi vi saluti Fate i bravi Buon primo maggio A tutti E ragazzi Se ci fosse Anche solo a mezza Proprio un'unghia Di possibilità Di prendere Conte Non abbiate Dubbi Andate a prendere 12 milioni 15 milioni Dagli i soldi Che vuoi Vendi un giocatore In più Ma vallo a prendere Ma tanto Ha già firmato Ciao 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 Ciao